Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica caffè e mercati. Anche quest'oggi un saluto da Riccardo Zago. Andiamo subito sul nostro sito perché dopo aver visto il calendario 20 dobbiamo parlare un attimo delle elezioni negli Stati Uniti d'America dove regna l'incertezza, andiamo a vedere anche un po' di previsioni e poi andiamo chiaramente ad aggiornare i più importanti strumenti finanziari passando dal gold agli indici e anche a qualche cambio valutario. Quindi andiamo subito sul nostro sito, eccoci qui, investire.biz, ricordo che oggi è mercoledì, di conseguenza abbiamo il trading live, qui oggi potremo commentare quello che sta succedendo negli Stati Uniti ma chiaramente andremo a individuare tutte le opportunità che possono uscirne, per questo vi invito ad iscrivervi qui sotto. Inizia come sempre alle ore 16, ora andiamo a vedere un attimo cosa sta succedendo in America, dove regna quindi l'incertezza per quale motivo. è vero che per il momento Biden è avanti ma Trump avanza con forza e se andiamo poi a vedere gli stati indecisi notiamo come è possibile che Trump vada a vincere le elezioni. Però insomma per il momento attendiamo anche se la vittoria sembra chiara, però insomma dobbiamo chiaramente attendere, non possiamo esserne certi. detto ciò però andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading andando a parlare di DAX, eccolo qui, purtroppo ha già raggiunto uno dei target preimpostati per la giornata, 12.040 punti, stiamo parlando del cash anche se lo studio è stato fatto nello specifico sul future, poi sono andato a tracciare gli stessi livelli solo che sul cash e quindi con qualche minima differenza di punteggio, un livello molto importante è quello raggiunto in area 12.040, i livelli chiave per entrare long erano 11.990, 11.907. Comunque la tendenza rimane rialzista, adesso che siamo lontani da questa zona supportiva che era molto interessante per valutare un long, io vi indico anche questa zona, che me l'ero segnata in precedenza ma non pensavo che i prezzi ci arrivassero così velocemente, comunque sto parlando del livello di 12.000 punti, quindi stiamo parlando anche di un numero tondo, psicologicamente importante, avevo segnalato come target price al rialzo 12.040 ma il più importante è 12.130 per la giornata di oggi che sembra iniziare abbastanza bene per l'indice tedesco DAX. Altro livello interessante se vogliamo segnarcelo è il seguente in area 11.940, tutti i livelli interessanti sotto il profilo di vista tecnico ma soprattutto volumetrico. Bene, continuiamo la nostra analisi, andiamo sul Nasdaq ma parliamo di un time frame più ampio, in quanto sul time frame settimanale voglio fare uno zoom, come vedete è stato toccato il massimo della settimana scorsa e da qui i prezzi sono scesi. Livello molto importante, è segnalato anche ieri al trading live, invece per quanto riguarda i livelli supportivi li troviamo in area 10.956 come detto ieri e 10.670 punti, si parla sempre di indice cash, andiamo però a vedere anche un time frame giornaliero per capire cosa sta succedendo, sembra che questo voglia essere un ritracciamento di questo forte impulso, sarà molto importante la chiusura odierna per capire se la tendenza di breve continuerà ad essere ribassista o meno, chiaramente il massimo segnato oggi è un livello chiave. Andiamo avanti però perché dobbiamo vedere EuroGBP, quindi un cambio valutario che è ritornato di sopra dell'area dei 0.9, avevamo ieri aperto una posizione al ribasso da 0.910 all'incirca e una volta arrivati su questo livello chiave che voglio andare a evidenziare abbiamo portato lo stop loss in profitto, io mi aspettavo che i prezzi potessero scendere ancora invece sono tornati in territorio positivo nella giornata di oggi beccando il nostro stop profit, comunque siamo usciti con un profitto e non con una perdita, anche se non così ampio. Andiamo verso la conclusione con EuroDollar, voglio segnalare che ha raggiunto il minimo in area 1.16 e 20 che è un livello chiave per la tenuta del trend, sostanzialmente del trend laterale, quindi non siamo all'interno di un trend rialzista su questo time frame, una rottura ribasso potrebbe invece dare in là nuovi storni per un possibile raggiungimento del livello di 1.13 e 65. Bene per ora abbiamo concluso, oggi dobbiamo parlare anche di Gold e di tanti altri strumenti, quindi come detto io vi aspetto alle ore 16 come ogni mercoledì al Trading Live, buona giornata e buon trading a tutti. Grazie a tutti.